Ciao ragazze, sono appena tornata dal lobby show a Milano, la fiera della creatività. Volevo farvi vedere le cose che ho comprato. Devo dire che c'era tantissimo. In alcuni casi ho trovato dei prezzi molto buoni, in altri casi un po' meno. Però diciamo che quelli che conoscevo già non mi sono sembrati più alti dei prezzi praticati in negozio piuttosto che sul web. Quindi niente da dire sull'onestà di chi vendeva il materiale. Allora, da Dive Bijou che mi piace molto, ma che devo dire ha le quantità veramente alte, ho preso questi sacchettini. Sono dei sacchettini trasparenti, 6x9, 100 pezzi, li ho pagati 2,40 euro. E questi moschettoni color argento, sono 100 anche questi, li ho pagati 3,30 euro. Poi, in un banchettino fantastico, che è legato al sito www.perlineweb.it, ho preso tutte queste cose. Veramente stupende. Allora, qui ho 3 sacchettini, ognuno contiene 20 pezzi di, allora è plastica, però l'aspetto è quello del Cabonshaw Rivoli da 14 mm, ed è identico, veramente identico. 20 pezzi, 1 euro. Eccezionale, ho preso questo che sembra nero, ma è un verde molto scuro, questi rossi e questi argentati. Sono veramente identici allo Swarovski e più resistenti, credo. Poi ho preso queste perle. Queste sono in resina, sono delle palline spaccettate, hanno dei bei riflessi. Queste 24 pezzi, 2 euro. Poi, queste perle in vetro, sono marroni, 36 pezzi, li ho pagati 3 euro. Queste invece sono color prugna, anche queste sfaccettate, 50 pezzi, 3,50 euro. Poi, queste perline verdi, sempre in vetro, 50 pezzi, 1,50 euro. E poi, queste che sono veramente belle. Sono 10 pezzi, 2,50 euro. Sono anche come chiamarli, hanno molte facce, molto molto carini. Poi, da Mabelan ho preso queste catene, queste erano da 3 euro, meno 20%, questa da 5 euro, sempre meno 20%, e questa qui da 3 euro. Ho preso anche il monofilo, per tessitura, da 0,2 mm, l'avevo finito. Poi, da Filincanto, ho preso questo misto di perline in resina e argentone, che credo sia un sintetico, molto bello. Questi moschettoni color rame. I moschettoni erano pagati 2 euro, questo veniva a 6 euro letto. Poi ho preso da un altro banchettino, di cui non ricordo il nome, un misto di cosiddetto argentone, moschettone cerchietto,